Buongiorno bellissime anime, oggi vi voglio leggere una poesia famosa che tutti o la maggior parte pensano sia scritta da Neruda e invece no, gli hanno attribuito questa poesia a questo grande poeta ma non è la sua, la vado a leggere e sicuramente la riconoscerete, si intitola lentamente muore, me la sono scritta perché è un po' lunga ed è una bella poesia, lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce, muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco e i puntini su lei, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno spadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti, lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno che non si permette almeno una volta nella vita di fuggire dai consigli sensati, lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta la musica, chi non trova grazia in se stessi, muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della propria incessante pioggia, lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce, evitano la morte a piccole dosi, ricordandolo sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga, maggiore del semplice fatto di respirare soltanto un'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Ebbene, questa è la poesia che, ripeto erroneamente, l'hanno attribuita a Pablo Neruda, ma è di una giornalista e scrittrice brasiliana di nome Marta Medeiros che va a lei e quindi il mio abbraccio per una poesia così bella. E bene ragazzi, oggi ho voluto leggere questa poesia, perché in molti si riconoscono in queste parole un grande abbraccio in ASMR a tutti, un bacio sulla fronte a tutti, ci vediamo al prossimo video fate bei sogni per servirvi